Il nuovo anno liturgico comincia con il discorso di Gesù sulla venuta del Figlio dell'Uomo. È il cosiddetto discorso escatologico. Lo ascoltiamo, almeno in parte, in questa prima domenica dal Vangelo di Matteo, che ci accompagnerà lungo tutto l'anno. E notiamo immediatamente come queste parole vengono riportate dall'Evangelista per scuotere la comunità, ogni comunità, anche noi, dal torpore che sembra tante volte prevalere. Gesù non vuole assolutamente impaurire, al contrario, vuole prepararci all'incontro con Lui. Tutta la storia, non solo dei discepoli, ma dell'umanità, è andare incontro a Lui. Ecco la venuta del Figlio dell'Uomo, l'ultimo giorno dell'umanità, di ciascuno di noi, del mondo intero. Un giorno che va anticipato nella vita quotidiana e nella preparazione responsabile, cosciente. Ecco perché Gesù parla di questa esperienza fatta ai tempi di Noè. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Per guardare avanti e prepararci alla fine, impariamo dalla storia, guardiamo al passato. Cosa successe nei giorni di Noè? Giorni che precedettero il diluvio, evento tragico, giorni che però furono vissuti nella apparente normalità. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito. Esperienze quotidiane, esperienze che appartengono alla vita di sempre, quasi senza accorgersi di quanto sta per accadere. Ed è quello che l'Evangelista sottolinea, riprendendo le parole di Gesù. Non si accorsero di nulla. Si può correre il rischio di vivere la vigilia di un evento straordinario e così sconvolgente senza accorgerci di nulla. È il primo forte invito del Signore. Occorre che noi prestiamo attenzione per accorgerci di quello che sta per accadere. Venne il diluvio, travolse tutti e ci fu questa esperienza negativa. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo, che Gesù non vuole affatto presentare come esperienza negativa, ma come esperienza da preparare con vigilanza e desiderio forte di incontrarlo. E ancora, allora, le sue parole che rimandano alla vita quotidiana, non tanto per descrivere cosa accadrà alla fine, quanto per scuoterci nel tempo presente. Due uomini nel campo, due donne che macinano alla mola. Il rimando è evidentemente a quanto accadeva quotidianamente nella vita degli ascoltatori del Signore in quei tempi. Uno verrà portato via, l'altro lasciata. Una verrà portata via, l'altra lasciata. Non è un giudizio implacabile, anzi crudele, che sceglie e lascia, d'altra parte, senza nessuna possibilità di cambiamento. È uno scossone forte, perché ciascuno di noi apra il cuore e la vita all'incontro al quale si prepara. Ecco allora l'invito di Gesù, esplicito, quasi affidato ai discepoli come comando forte e costante. Vegliate, rimanete svegli. Questa attenzione che deve caratterizzare non solo la vigilia, ma la vita di ogni giorno, giorno e notte. Vegliate. Vegliate e il motivo è dato subito, perché non sapete. Perché c'è questa ignoranza riguardo alla fine, in quale giorno il Signore vostro verrà. Bella l'espressione con la quale Gesù parla della venuta del figlio dell'uomo. È il Signore, Lui. È il Signore vostro. È colui che si è legato a voi per sempre. Pur ignorando il giorno e le modalità della fine, noi non andiamo incontro all'oscurità, al buio o alla disperazione. Andiamo incontro al Signore, al Signore che è già nostro, che si è legato a noi per sempre, nella sua incarnazione e nella sua Pasqua di risurrezione. Andiamo incontro a colui che ci ama. Questo per noi è motivo di grande speranza, ma occorre vegliare. E qui un altro rimando attraverso la piccola parabola. Se un padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe. Non si lascerebbe scassinare la casa, perché il ladro che viene di notte approfitta del momento in cui non è assolutamente atteso, viene all'improvviso. Anche qui ancora l'invito forte a causa di questa ignoranza di colui che verrà certo non come un ladro, ma come il Signore della vita per accoglierci e portarci con sé nella pienezza della vita, l'invito a essere svegli. Tenetevi pronti. Sì, vigilare, tenersi pronti con il cuore desto, con il desiderio forte di incontrarlo e di essere attenti a tutti i segni che intanto ci vengono offerti come anticipo di questa comunione piena. Nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Non immaginiamo l'ora, non immaginiamo che cosa sarà, non immaginiamo nemmeno il dono grande che ci aspetta, ma il Figlio dell'uomo, il Signore della vita, colui che si è unito per sempre a noi facendosi uomo come noi viene. E come viene già, ne facciamo esperienza, nella vita di ogni giorno così verrà per aprirci la vita vera e consentire a tutti coloro che lo aspettano con amore di partecipare della gioia senza fine in Dio Padre suo e nostro.